Le precarie condizioni del terreno di gioco del Vigenzo Presti hanno causato un gravissimo infortunio al centrocampista del Gela Salvatore Caci, neotesserato del club preseduto da Angelo Tuccio. Ieri, durante l'allenamento, l'ex giocatore dello Scordia ha subito un incidente molto grave alla Caviglia e sarà fuori per diverse settimane. La causa? Uno dei irrigatori del manto erboso del rettangolo di gioco dello stadio, mai sistemati. Il club giolese, attraverso una nota, si dice stanco, oltre ogni immaginazione, perché, quanto accaduto, ieri va a sommarsi ad una serie incredibile di assurdità che non si possono più accettare. Lunedì prossimo, alle 11, è stato convocato un consiglio di amministrazione straordinario per decidere se continuare a disputare il campionato. In ambito appartamente agonistico, domani, nell'ambito della tredicesima d'andata del torneo di eccellenza, la squadra allenata ha dato a Toro Bruculeri rendere avvisita al Castelbuono. Si tratta di uno spareggio di alta classifica. I biancazzurri occupano il terzo posto a quota 23, mentre i palermitani si trovano un gradino sotto con 22 punti all'attivo, in compagnia del Paceco. Dunque, guai ai vinti. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie. Il Gela domenica scorsa ha superato 3-2 la Profavara davanti al pubblico amico, mentre i ragazzi, allenati da Cristian Pericone, hanno battuto 2-1 a domicilio il Mazzara. Vincere a Castelbuono sarebbe importantissimo per Pandolfo e Sochi. Tra due domeniche, infatti, sfida alla capolista Dattilo Noir. Nel torneo di promozione Big Match al Presti, l'Atletico Gela ospiterà la supercorazzata Nissa. I biancoscudati le hanno vinte tutte, 12 su 12. Nessuno ha fatto meglio in tutto il panorama calcistico nazionale. Dunque, una partitissima da seguire. Il club Gelo Rosso, che in settimana ha tesserato l'esperto portiere Polessi, il centrocampista esterno Bessio, il giolo difensivo Mersana ed il centrale di difesa Famà, arriva dalla pesantissima sconfitta 4-1 Maturata Ragusa, che ha di fatto interrotto la ministriscia positiva di tre vittorie di seguito. Giocherà in trasferta, invece, al Macchitella. L'undici Biancorosso, tre successi di fila nelle ultime gare, se la vedrà con l'Atletico Caltanissetta. I Nisseni, in gradutoria, si trovano in piena zona bagarre con 10 punti all'attivo. Con l'innesto del nuovo tecnico Mirko Fauciana, il team presieduto da Francesco Greco si è risollevato, portandosi a quota 13, in pieno centro classifica.